Buongiorno a tutti, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Prima di Tutto, il buongiorno insieme a me ve lo porge Pierferdinando Piccioni, non lo vedete ma c'è, è in regia. Allora un Prima di Tutto abbastanza classico, tre ospiti questa mattina, parleremo di teatro e non solo, parleremo anche di danza con il primo ospite, poi parleremo di un'iniziativa di un consigliere comunale di Teramo, infine lo spazio dedicato ai libri, quello curato come sempre da Simone Gambacorta. Adesso andiamo a cominciare, prima dalla rassegna stampa che è il piatto forte di ogni inizio di Prima di Tutto. Qui a Teleponte diamo un'occhiata alle previsioni del tempo per la giornata di oggi. Previsioni per oggi in provincia di Teramo. Al mattino ampi spazi soleggiati, nel pomeriggio graduale aumento della nuvolosità, dalla sera deboli precipitazioni in arrivo a partire dalle zone litoranee, in estensione notturna a tutto il territorio provinciale. Temperature stazionarie, massime comprese tra 17 e 20 gradi nelle pianure dell'entroterra, fra 18 e 21 sulle coste, venti deboli nord orientali, mari quasi calmi o poco mossi. Eccoci qua pronti per cominciare a dare un'occhiata ai quotidiani. Cominciamo con il messaggero perché andiamo a leggere come sempre il santo di oggi, che è proprio sotto la testata del giornale. Oggi è San Teodoro, sono numerosi santi che portano il nome Teodoro, tra cui molti martiri dell'urbe. E allora risulta molto improbabile stabilire a quale di essi possono attribuirsi le reliquie venerate in Valsesia. E questa è l'apertura invece del messaggero. Tasse è arrivata la proroga, non si paga fino al 31 dicembre, Chiodi esulta, il PD resta scettico, l'Aquila, dopo una lunga giornata di tensione, l'attesa notizia da Roma, Berlusconi ha firmato. E poi in questa fotonotizia, il palazzo di Sei Piani si solleva per inserire i dissuasori sismici, Maria Grazia Cucinotta ieri all'Aquila in via Rauco per questi lavori. E poi una notizia che è un po' il segno dei tempi, questo articolo qui in prima pagina del messaggero. Sul Mona finisce un'epoca, al Gran Caffè di Monicelli si parlerà cinese. Chissà cosa direbbe oggi il maestro Mario Monicelli, il regista scomparso nell'entrare al Gran Caffè di Sul Mona, il bar che 20 anni fa ospitò le scene. Più salienti del suo Parenti Serpenti e vedere che c'è un orologio calendario a sfondo e ora cinese al muro, grappa alla rosa e ginseng tra gli scaffali. Lui che in occasione della sua ultima visita nel 2005 sul Mona Cinema sobalzò nell'entrare in quel bar dal quale era stata già tolta la carta da Parati Rossa dei primi del Novecento che disegnava come un abile caratterista l'atmosfera della provincia Terramani. Il nuovo gestore è un ragazzo cinese di 23 anni, Li Guang Wang, che ha acquistato il vecchio Gran Caffè di Sul Mona e ha detto anche «Apriremo alle 6 anziché alle 7, il sabato faremo musica dal vivo e il ristorante avrà cucina italiana». A Terramo in prima pagina, eccolo qui l'articolo, Brucchi, rivoluzione per i passi carrabili, poi lo troveremo all'interno. Ma è una notizia curiosa in questo articolo di Francesco Marcozzi. Va al cimitero e trova il suo loculo occupato. Va al cimitero e trova il loculo che aveva acquistato per sé occupato da un altro defunto. E allora va in comune per chiedere lo sfratto del cadavere, quello che è successo a Giulianova. Andiamo all'interno. Sanità alla regione. Chiodi, siamo noi a fissare le condizioni. Chi non ci sta eviti di firmare gli accordi. Il governatore replica i privati dopo il ricorso. Le cliniche al Tar confidando nell'annullamento dei contratti. E adesso andiamo invece alle pagine di Terramo. Questa è la prima di Terramo e l'apertura è dedicata al Consiglio Comunale di Terramo. I passi carrabili varata alla rivoluzione. Brucchi relaziona in aula. Il PD ci sta. Stiliamo il regolamento insieme. Nel sommario, commissioni, i presidenti saranno Pompili e Quintigliani, che le vediamo qui in foto. Giovanni Battista Quintigliani e Fabrizio Pompili, presidenti delle commissioni urbanistica e lavori pubblici. Poi, sempre per il Consiglio Comunale di Terramo, trenino, pista di ghiaccio e musica. La campana presenta le idee per il Natale a Terramo. Provincia, alluvione, una mozione bipartisan per la regione. E poi la cronaca, l'operazione droga. Arrestati due amici, Ashish, nell'officina e una serra di marijuana, nell'abitazione. Il giallo, lo strano caso di Melania Rea, potrebbe non arrivare in libreria. I carabinieri non escludono azioni legali. Lo strano caso di Melania Rea, edito dalla casa editrice San Paolo, potrebbe non giungere mai in libreria e diventa un giallo letterario. Il lavoro dello scrittore giornalista Antonio Dell'Italia, recentemente scomparso, potrebbe essere posto sotto sequestro dalla procura di Terramo. Concorso di estorsione convalidato il fermo per quanto riguarda la cronaca giudiziaria e poi ancora invece la cronaca maltratta la madre per avere soldi. Andiamo nell'altra pagina, il messaggero destina alla provincia di Terramo. Giulianova, discariche vicino ai fiumi, allarme e esondazione, i rifiuti vanno immediatamente rimossi. La proposta delle aziende è curare gli argini del Tordino per evitare alluvioni. La cronaca, Pineto, spaccio di Mariana, nei guai, un giovane di Silvi. Ancora Giulianova invece con questo articolo, stanziati altri fondi per l'ex Iti Ipias e per lo scientifico, soldi dalla provincia. Sempre Giulianova, fallimento del CIRSU, la soggesa ritira l'istanza appunto contro il CIRSU. E poi sempre Giulianova per parlare dei costi sostenuti dal comune di Giulianova per liberare la spiaggia dopo l'alluvione. Spiagge lite sui costi della pulizia, dei detriti. Arrivano le repliche, la conferenza stampa sullo spiaggiato di progresso giugliese, PDL. A replicare sono il sindaco Mastromauro e l'assessore all'ambiente Filipponi che dicono la prossima volta, dice Mastromauro, si organizza la conferenza stampa come progresso della libertà perché così dovrebbe correttamente chiamarsi questa unione accomunata dall'obiettivo molto elettoralistico e poco programmatico di screditare la giunta sperando di racimolare voti alle prossime elezioni. Tortoreto, favori in comune. Monti respinge le accuse del Partito Democratico. Roseto, Sandrelli e Pitagora, qui parliamo della stagione teatrale, tra le protagoniste della stagione teatrale rosetana. Via con grandi nomi e allestimenti la nuova stagione teatrale promossa da Atam e comune di Roseto. Proseguirà la collaborazione con l'Atam, è molto importante, ha detto il sindaco Pavone. Il nostro è un pubblico esigente e l'Atam è garanzia di qualità. E siamo alle pagine dello sport, ecco qui a Bruzzo Sport, l'apertura è dedicata alla Serie B al Pescara. Immobile punta subito il Padova e dice la prima svolta della stagione. Però poi c'è qui a centropagina un articolo dedicato alla prudezza dell'attaccante del Teramo Calcio Masini. Masini, una rete da fenomeno nello stadio di Diego dove anche Maradona realizzò gol importanti. E quanto è accaduto in Serie D? E qui c'è la sequenza fotografica del particolare gol messo a segno da Masini domenica scorsa contro il San Nicolò. Andiamo avanti e parliamo di basket. La banca Tercas Teramo, il basket di Serie A, Tercas la spinta di Polonara. E c'è anche la foto di Achille Polonara. Dovevamo rompere il ghiaccio, ora sotto con Venezia, dice il giovane giocatore della banca Tercas Teramo, protagonista contro Bologna all'esterno e un'arma in più per Ramagli. Nel sommario, Reier, cioè Venezia, temibile negli americani. Da noi gli italiani sono più decisivi. La sfida, si ricorda in questo specchietto, dopo i duelli a colpi di carta bollata tra Teramo e Venezia, il confronto si trasferisce sul parchè e si giocherà domenica prossima al Palaverde di Treviso. E poi invece il basket di DNB, il bomber Petrucci infiamma Roseto. Ci siamo, sì, è praticamente tutto per quanto riguarda il messaggero, non ci sono altri articoli che riguardano la nostra realtà territoriale. Andiamo a vedere invece adesso che cosa ci propone il centro. Diamo subito un'occhiata alla prima pagina, l'apertura è dedicata alla politica nazionale. Berlusconi, lascio dopo la manovra, il premier sale al Quirinale e dà l'annuncio delle dimissioni. Governo senza maggioranza, alla Camera il rendiconto passa con 308 voti, l'opposizione dice vada via subito. E poi la foto tasse, Aquilani in piazza, ma arriva la proroga. I titoli in prima pagina riguardano Teramo e la provincia, Teramo-Irpef, la giunta aumenta l'addizionale, poi grave crisi nel Teramano per l'edilizia e ancora scoperta coltivazione di marijuana nel garage, due in manette. Teramo, sono un fabbro e l'addetto di un autolavaggio, un arresto per droga, anche a Pineto. E poi altri titoli, ma andremo a ritrovarli ovviamente negli articoli all'interno. Intanto la ricostruzione è difficile, Chiodi, il governo proroga le tasse. La notizia dell'ordinanza per l'Aquila è arrivata in Consiglio regionale. E possiamo andare avanti a vedere invece i problemi dell'ambiente su scala regionale. Con l'intervento del WWF manca la prevenzione per le frane. In Abruzzo sono 17.000 i siti dissestati, timori per gli argini dei corsi d'acqua. E poi in questo box, in questo specchietto, dissesto idrogeologico e grandi opere. Le frane, 17.000 siti a rischio, oltre 1.500 km quadrati sono dissestati. E i punti critici al ridosso dei bacini fluviali. Qui ne vengono selezionati tre. Popoli per la Terno Pescara, a Pineto per il fiume Vomano e a Castel di Sangro per il Sangro. I problemi dell'edilizia. Il caso edilizia, reti di imprese contro la crisi. I piccoli costruttori abruzzesi dicono che bisogna investire sull'innovazione per essere competitivi. L'appello del lancio è raccolto da altre associazioni. Confartigianato dice sbloccare il bando Abruzzo 2015. Nelle foto c'è Italo Ferrante di Confapi Abruzzo. La Confapi dice indietro dal punto di vista culturale e PMI Abruzzo Molise, le aziende non arrivano alla fine del mese. Intercredit, 8 milioni alla piccola e media industria. Accordo con Conf Cooperative Abruzzo. Venerdì la firma a Teramo. Confidi, linea di credito a sostegno del comparto economico delle cooperative della regione. Sono interessate oltre 400 imprese associate nella foto Giampiero Ledda di Conf Cooperative. E siamo alla prima pagina di Teramo. La sanità che non va. I consultori sono senza personale, dice il centro. A Teramo, Roseto e Montorio non c'è il medico. A Giulianova, la psicologa. La funzione pubblica della CGL, leggiamo qui nel sommario, chiede un incontro all'ASL per riorganizzare tutte le otto strutture in provincia. Nell'ambulatorio, in Contrada Casalena, manca l'ecografo. Quello di Atri è in una sede fatiscente. I disagi, i pazienti dicono impossibile fare una visita. I cittadini protestano. Lo specialista è in malattia e non è stato sostituito. Nella foto il dottor Roberto Petrella. Qui sotto, invece, per cambiare argomento, lo specialista in alluvioni, premio europeo a un giovane scienziato teramano. Giuliano Di Baldassarre insegna sistemi idroinformatici a Delft, in Olanda. E andiamo avanti con il centro. Edilizia, crollo atteso per fine anno, i colpi della crisi. Lance dice che molte aziende non ce la faranno senza i pagamenti degli enti. Il presidente Di Eleuterio, vediamo qui in foto, dice che gli appalti pubblici sono scesi del 70% in tre anni. Sono in aumento i mutui per l'acquisto di case, ma sono bloccati i prestiti alle ditte. La politica, sott'anelli, tornerò al posto del consigliere del PD, consigliere provinciale del PD, entra Pulcini di Albadriatica. L'ex vicepresidente della provincia lascia per diventare presidente di una banca. A fondo pagina, il giudice del lavoro condanna la Telecom, accolto il ricorso, i premi in denaro spettano anche ai sindacalisti. L'accusa, condotta antisindacale, l'azienda va in appello. Nella foto il giudice del lavoro, Luigi Santini. Il comune a caccia di soldi, siamo a Teramo. Aumenta l'addizionale IRPEF. L'aliquota sale allo 0,8 per mille per pareggiare il bilancio. E poi il consiglio comunale, qui a centropagina, tregua sui passi carrai dopo il nuovo regolamento. L'opposizione apprezza le modifiche apportate alla tassa e ritira l'ordine del giorno previsto. Nella foto i neoconsiglieri Deremigis e Narcisi. E poi gli incarichi a Pompili e Quintiliani fanno arrabbiare il centrosinistra. La Theam bonifica via Barnabei. Mucchi di rifiuti gettati nel verde ai lati della strada, rimossi dagli operai della società che accusa è inciviltà. E andiamo ancora avanti. La cronaca a Serra di Marihuana nel garage. Arrestati Fabbro e Lavaggista, sequestrati 800 grammi di droga, blizza nel quartiere della Gammarana. Spunta agenda di nomi. A Pineto poi nasconde Marihuana in casa, in manette. Maltratta la madre e va in carcere. L'indagine scatta dopo le chiamate della vittima alla polizia. La squadra mobile ottiene per il disoccupato Teramano un'ordinanza di custodia cautelare. I cittadini denunciano al centro incidenti a raffica per l'asfalto liscio. Via De Paulis a Teramo è pericolosa. Protestano i residenti. E in via del castello la fontanella rotta spreca l'acqua. A TR resta lo scoglio degli scatti. C'è l'intesa sindacati azienda, ma non per i livelli retributivi. A Colonnella oggi la firma dell'accordo al Ministero. E il rogito per l'acquisto del gruppo. A Santomero fisioterapia, termosifoni spenti di pomeriggio. Tortoreto costretti a lasciare la casa popolare. Ora vivono in auto. Madre e figlio per la strada. Martinsicuro SOS per pulire il vibrata. Il torrente è pieno di detriti. Il Partito Democratico scrive alla Regione. Appello anche a comune e genio civile. Pericoli con la pioggia. Tortoreto. Lotta all'evasione fiscale. Accordo con l'Agenzia delle Entrate. E adesso ci spostiamo a Giulianova. Arriva un milione per le scuole. I fondi serviranno a ristrutturare lo scientifico, l'alberghiero e l'ITIS. Estorsione. Liberi due arrestati per i videopoker. Il GIP li scarcera dopo la convalida. Ma non possono lasciare la città. Non possono lasciare Giulianova. Ancora Giulianova. Alluvione. Spiegati i costi. Sindaco e vice replicano alle accuse di spese pazze. Mastromaro e Filipponi dicono ecco perché rimuovere i detriti è costato un milione. Per Ruffini il nuovo ospedale. Non si farà il nuovo ospedale di Giulianova. Il consigliere svela. Non c'è alcun atto in Regione che ne disponga la costruzione. Intanto ci tolgono i soldi per ristrutturare il padiglione Ovest. A Roseto, ex fornace, ora si può costruire. La regione la esclude dai siti a rischio via al piano del privato. Niente accordo con l'amministrazione per il polo liceale. Si faranno solo case. Atri, tecnici di Atri, chiedono al comune più sviluppo edilizio. Va cambiato il progetto strategico. E a Pineto, petizione con 300 firme per un Calvano più sicuro, il Torrente Calvano. Cittadini dal sindaco appunto per il Torrente. Adesso occupiamoci di cultura. Prima della pagina sportiva. Due articoli che riguardano Teramo. Colazione da Tiffany al cinema. Il film per un giorno nelle sale abruzzesi. Quattro sale abruzzesi partecipano oggi all'evento cinematografico dell'anno. Il ritorno sul grande schermo per un solo giorno. Dell'intramontabile film di Black Edwards. Colazione da Tiffany. Interpretato da Audrey Hepburn e George Peppard. Atteramo alla multisala Smeraldo. Teresa Laladra apre a Roseto la stagione teatrale. Mare Angela D'Abraccio nel ruolo di Monica Vitti. Andiamo avanti adesso alle pagine dello sport. Qui nella prima dello sport c'è il richiamo a un articolo che troviamo all'interno. Basket Teramo Polonara punta al bis con il Venezia. Andiamo subito. All'interno ecco qui l'articolo che riguarda Polonara che già pensa al Venezia. Ci serve continuità. La società saluta Johnson e stringe i tempi per Vitali. Invece in quest'altra pagina si parla di calcio. La Serie D. L'angolana si rialza. Sant e Atessa in crisi. Abruzzese in chiaroscuro. Il Teramo vola. Malancona rimane un punto. Cresce l'attesa per il big match. Bene. E' tutto anche per quanto riguarda il centro. Adesso ci fermiamo un attimo. Un po' di pubblicità e poi andremo a dare un'occhiata alla città e al tempo. Un po' di pubblicità e poi andremo a dare un'occhiata alla città e al tempo. Di Stefano. Piccole Entità. Impianti industriali e montaggi di prefabbricati, di gru e dili e di piattaforme aeree. Autotrasporti con mezzi affidabilissimi e con personale altamente qualificato. Quando l'esperienza e la serietà nel lavoro costituiscono elementi di garanzia assoluta, il riferimento rimane di Stefano Autogru e Trasporti. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Riprendiamo la rassegna stampa con il quotidiano La Città e vediamo subito la prima pagina del quotidiano Teramano. Eccola qui. Nasce anche la terza università, come se non bastasse già un'Iadriatica. Apri a Teramo anche la sede di E-Campus, università telematica, che offrirà il corso di laurea in giurisprudenza. La politica tace, l'Ateneo forse non sa, seguirà aperitivo. E qui sopra, come anticipato dalla città, aumentano le tasse dei Teramani. La fotonotizia, 200 milioni e il Vomano sarà sicuro, un preventivo forse più preoccupante del maltempo. E poi la pagina regionale. Abruzzo, tasse, 1.500 in piazza, tra fischi e proteste all'Aquila. Da Roma l'annuncio, proroga fino al 31 dicembre. E per quanto riguarda la cronaca, sequestrati 2 milioni e mezzo di euro a Nomadi, avevano accumulato all'insaputa del fisco, importante operazione della Polizia e della Guardia di Finanza. Ambiente. L'Abruzzo frana, per il WWF gravissimo, il pericolo idrogeologico. La cronaca, a Teramo coltivavano marijuana nel garage di casa. Arrestati dai carabinieri, un fabbro, il lavaggista di piazzale San Francesco, avevano realizzato una vera e propria serra in grado di produrre Maria tutto l'anno, sequestrata oltre un chilogrammo di droga. Arrestato dalla Polizia, un disoccupato 39enne si manteneva picchiando la madre anziana. Deciso il Comune aumenta le nostre tasse. Come anticipato dalla città due mesi fa, il Comune ritocca l'addizionale IRPEF. Nasce un mini polo scolastico, forse due. Il Comune progetta due nuove strutture in project financing a Nepezzano e a Villavomano. Romanelli dice che sarebbe la soluzione ideale per risolvere molti dei nostri problemi. E poi il traffico che è caos al mattino davanti alla scuola Noelucidi a Teramo. Sui passi carrabili, new style, scricchioli nella maggioranza. Nella riunione dei partiti che governano la città emerge qualche dissidio. Il problema c'è chi considera la necessità dell'autorizzazione una misura eccessiva. Andiamo a chiedere al prefetto di mandare a casa il vice sindaco Pietracamela Bellisari. Secondo i consiglieri di opposizione al momento del voto era incompatibile. Tutto nasce per un terreno e per una causa tra il Comune e la famiglia del vice sindaco. E poi continua dalla prima pagina, l'abbiamo visto l'apertura, nasce anche la terza università a Teramo, un'università telematica. Teramo, il Consiglio Comunale in Comune è un consiglio fiacco tra new entry e a volte ritornano. La carelli, i passi carrabili tengono banco con la minoranza che gongola per le modifiche. La novità intanto si decide che i consiglieri avranno certificazioni sull'assenza reale e non di giornata. Ambiente, Team Tech, nominato l'amministratore delegato, mentre Team rivede le tariffe. E a fondo pagina auguri l'assessore festeggia i cento anni di nonna Elda, l'assessore Mirella Marchese. Non dico addio alla politica, magari in futuro in Regione. Il saluto, Sottanelli lascia il Consiglio Provinciale e si dedica alla sua banca che il 20 novembre chiamerà i soci all'atto costitutivo. Primi due sportelli entro il 2012 a Cerne di Pineto e a Montorio Alvomano. Il culto San Gabriele torna a Campi dopo 34 anni. Il Santo d'Abruzzo sarà nella cittadella Farnese il 25 novembre. Andiamo ancora avanti dopo l'iniziativa del centro, il controvoto, l'iniziativa della città, scusate, il controvoto. Il fatto, il Vescovo visita la Pentaferte a Campli e ancora il commercio presentato, il progetto mazzittimoda.com, un portale che si apre al futuro per Teramo. Tortoreto, il sindaco Monti dai democratici calugne su tutto. Val Vibrata così com'è il Vibrata è un serio pericolo, siamo ad Alba, preoccupazione ad Alba Adriatica per lo stato di salute del torrente. L'assessore Viviani continua a scrivere ma dalla Regione ancora oggi dice nessuna risposta. Colonnella, nuovo centro arcobaleno, piovono critiche, un solo assunto del posto in tre strutture. A Giulianova chiude l'hotel Salinello grazie alla città, dice la città, intervengono i servizi sociali per trovare l'alloggio temporaneo per il cittadino romeno che dormiva sotto il ponte. Ce ne siamo occupati con un servizio di Luca Azzaroli e con un'intervista proprio al cittadino che dormiva sotto il ponte. Ambiente, la provincia stanzia un milione di euro per il fotovoltaico nelle scuole superiori. La replica Giulianova sullo smaltimento dello spiaggiato. Mastromauro e il suo vice dicono adesso abbiamo il gruppo Progresso della Libertà. A Pineto sviluppo sostenibile il comune a Rimini, protagonista della fiera Ecomondo. Vomano Sicuro servono solo, tra virgolette, 200 milioni. La provincia rinvia la votazione per elaborare una mozione bipartisan che ipotizzi anche soluzioni possibili. Cultura e spettacoli. La stagione Ricciteli nel segno di Liliana Merlo. Ovviamente parliamo della stagione di danza curata dalla Ricciteli. E poi a Nereto aspettando San Martino con il festival La Notte Bianca, 5 notti di spettacoli. E il teatro a Roseto. Mariangela D'Abraccio apre la stagione Atam al teatro Odeon di Roseto. E adesso lo sport basket di serie A. Trey Johnson lascia Teramo per curarsi in America. E il basket minore, il Campli Basket, premia tutte le sue vecchie glorie. Lo farà ogni domenica che giocherà in casa. Poi il calcio a 5 geometri piegati dalla finanza. E tutti i risultati del CSI a Teramo. Bene, lasciamo la città. Adesso andiamo a vedere il tempo. Prima di passare alla chiacchierata con i nostri ospiti, la prima pagina del quotidiano. Eccola qui. Dopo sisma Berlusconi firma la proroga delle tasse. Oltre mille terremotati scendono in piazza per chiedere uno sconto. Fischia i politici. Il PDL negrazie al Premier. Le opposizioni invitano a non abbassare la guardia. Serve un atto legislativo. A centro pagina abbiamo prima visto anche su un altro giornale riuscito l'esperimento per inserire gli isolatori sollevato un palazzo di seppiane successo all'Aquila. L'allarme sono 17.000 le aree esposte a rischio frane in Abruzzo. Ecco qui l'articolo. Siamo più indietro della Liguria di sesto idrogeologico. Esposte a frane 17.000 le aree, oltre 300 i ponti in pessimo stato. E poi l'Aquila dopo sisma rinviata alla restituzione delle tasse. Oltre 1.000 in piazza fischia i politici. Stesso trattamento di Umbria e Marche o Rivolta. A Teramo, eccola qui la prima di Teramo. La cronaca Serra di Mariana nel garage. Trovati anche terriccio e concime per le piante. Lampade e deumidificatori. Scoperta dai carabinieri nel corso di controlli antidroga. In manette due giovani. A Teramo va de Mecum in un bloc notes. Segnate le temperature dei vari periodi dell'anno. Consiglio provinciale. Il consigliere Sottanelli lascia al suo posto. Subentra Pulcini. Il comune di Teramo. L'addizionale IRPEF aumenta allo 0,8%. E poi qui a fondo pagina. Polizia in azione botte all'anziana madre per avere soldi. La squadra mobile ha arrestato un 39enne. Accusato di maltrattamenti. A Silvi droga in camera. Scatta l'arresto. E poi la decoreplica Ruffini. False accuse contro di noi. Ovviamente parliamo di smaltimento dei rifiuti. Giulianova. Il fotovoltaico accenderà la luce negli edifici scolastici. Flaviano Montebello dice più di un milione per lavori fondamentali. Due progetti già appaltati riguardano lo scientifico e il crocetti di Giulianova. A Roseto la stagione teatrale punta sul sentimento con un ricco cartellone. E a Giulianova invece polemica sulla pulizia della spiaggia. Crea impresa. Solo promesse imprenditori accusano gatti. Lasciamo adesso le pagine di cronaca. Andiamo a vedere invece che cosa propone il tempo per lo sport. L'apertura è dedicata sempre alla Serie B di calcio e al Pescara. Però qui a fondo pagina si parla del basket di Serie A. Johnson va via. Vitali sta per arrivare. Movimenti di mercato in casa a Tercasteramo. Manca solo una conferma per quanto riguarda l'arrivo di Vitali. Johnson invece che non ha mai giocato per un infortunio. Ha rescisso il contratto con la banca Tercasteramo. Il calcio di eccellenza. Sei squadre in sei punti. Vetta bollente. Ed è tutto per quanto riguarda il tempo e anche per ciò che concerne la nostra rassegna stampa. Adesso una breve pausa pubblicitaria e poi cominceremo la chiacchierata con i nostri ospiti. Gustose Delizie. Gastronomia, pasta fresca, pane, pizze, focacce, dolci, torte, tutto rigorosamente senza glutine. Gustose Delizie è convenzionato e autorizzato ASL ed è tutto preparato artigianalmente. Gustose Delizie offre anche una vasta gamma di prodotti delle migliori aziende. Ogni giorno numerose offerte da non perdere. Gustose Delizie, inoltre è il tuo servizio con consegne a domicilio e preparazione di buffet. Da oggi celiaco non vuol dire rinunciare. Vuol dire senza glutine. Vuol dire gustose delizie. A Teramo, in via Nicola Palma 6. 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 Radio Sanit. Prenderci cura di te, il nostro dovere. Struttura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Eccoci qua nel nostro salottino giallo, in compagnia del primo ospite, il maestro Maurizio Cocciolito, presidente da Riccitelli. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, perché abbiamo tante cose di cui parlare con Cocciolito e con la Riccitelli. Perché è cominciata la stagione di prosa con lo spettacolo di Carlo Cecchi. Ieri sera. Che adesso è qui, è a Teramo, è al comunale, perché si fanno tre spettacoli per soddisfare tutte le richieste, ovviamente, degli spettatori. La stagione dei concerti, dobbiamo parlare della stagione dei concerti, ed è stata presentata la stagione di danza della Riccitelli. Riccitelli. E come se non bastasse? Domenica scorsa abbiamo terminato Nabucco, la produzione. Esatto. Partiamo dal Nabucco? Così possiamo fare un bilancio del Nabucco. Certo, certo. Come è andata? Siamo molto molto contenti, perché è stata un'edizione molto importante, qualitativamente di altissimo livello, infatti ovunque ha riscosso grandissimo successo. Basti pensare che al Teatro Comunale di Fermo ha inaugurato proprio la stagione lirica dello stesso teatro. È stata una grande soddisfazione per noi, perché insomma c'è stato tanto lavoro, ma che portiamo avanti sempre con tanta passione. Quindi grazie alla Fondazione Tercas, che da anni porta avanti questo progetto attraverso l'esperienza della Primo Riccitelli. Ci può essere la possibilità, sentivo nelle interviste quando è stato presentato il Nabucco presso la sede della Fondazione a Teramo, di proporre più spettacoli, allungare e creare una sorta di stagione vera e propria? Infatti si sta lavorando proprio su questo, molto probabilmente già da quest'anno e già ad aprile 2012 avremo un'altra produzione lirica. Quindi significa che dal 2012 cominceremo a intensificare proprio l'offerta anche per quanto riguarda l'attività lirica. È un qualcosa di molto importante, d'altra parte se si vuole parlare giustamente, come dice lei, di stagione lirica i titoli devono essere più di uno. È ovvio che quando si produce, ecco, quando si produce, questo appunto stavo dicendo, la produzione di un'opera lirica non è come la produzione, per dire, di uno spettacolo teatrale o anche concertistico musicale, qualcosa di molto più complesso. Lei consideri che quest'anno hanno partecipato tra artisti e tecnici oltre 100 persone, per tanti giorni, all'incirca per più di un mese, insomma. Quindi potete immaginare quali siano i costi, naturalmente insomma la cosa è molto impegnativa. Questo non significa però che bisogna fare esclusivamente produzione, si può fare anche produzione, si continuerà su questo piano, però si potrà portare anche città a qualche rappresentazione lirica prodotta da qualche teatro lirico importante. Perché in questo caso invece viene proprio prodotta di fatto a terra. Viene prodotta a terra, esattamente, sì, è una cosa molto bella, entusiasmante, che è proprio delle grandi città, dei grandi teatri. Infatti io raccontavo, chiedo scusa, Presidente, quando ho avuto ospite qui nella nostra trasmissione pomeridiana, il regista e anche il direttore artistico del Nabucco, sì, di quest'anno. Sì, Zorzi e Stefano. Diciamo meglio, sono dei giorni, ho raccontato proprio da Ingeno, che sento da casa mia, in Viale Bocchio, davanti al Comio, cantare la sera. Ed era il coro del Nabucco che provava. Che abbiamo chiesto la disponibilità dell'aula magna dell'Istituto Comio, ormai sono diversi anni, per proprio le prove del coro. Insomma, facciamo lì. È bello perché la città, insomma, in città risuonano le note della produzione lirica, così come lo scorso anno è stato di Bohem, negli altri anni precedenti, di Otello, Lucia di Lammer, Muro Traviata, Ricoletti. Produrla è più bello. Beh, sicuramente sì, è tutto molto più... La produzione è sempre qualcosa che appassiona, di entusiasmante, perché proprio si vede nascere e crescere un capolavoro come può essere appunto un'opera lirica. Però, insomma, ecco, se vogliamo giustamente fare in modo che Teramo possa in qualche maniera fruire ancora di più della musica lirica, bisogna fare un po' un po'. Allora, parliamo della stagione di prosa che il primo spettacolo è adesso a Teramo, è cominciato ieri. Sì, ieri sera c'è stata la prima di questo bellissimo... Sogno di una notte d'estate. L'estate, sì. Tutti chiedono perché sogno di una notte d'estate e non di mezza estate. Perché non mezza estate. È stata una scelta della traduttrice del test, insomma, quindi... Così, nel momento in cui è andata a tradurre l'opera di Shakespeare... Un grande intervento. Un punto tra di uno in questa maniera. Carlo Cecchi è un grandissimo interprete, ma sono bravissimi i ragazzi che hanno recitato, perché è uno spettacolo dedicato ai giovani. Cioè, sono tutti attori giovanissimi dell'Accademia d'Arte Drammatica di Roma, perché Cecchi è appunto il direttore dell'Accademia d'Arte Drammatica di Roma, Silvio D'Amico. E veramente sono bravi, bravi, bravissimi. Ieri sera, insomma, è stato un bellissimo spettacolo. Un bel successo, quindi. Una bella prima, che non a caso, Ugo Pagliari, il nostro direttore artistico, appunto, ha voluto rivolgere e dedicare ai giovani attori che stanno, diciamo, in tanti giovani attori che stanno sul nostro territorio nazionale. È stato un grande successo, proprio come stagione. Il teatro comune alle pieno, anche perché quest'anno sono aumentati. Gli abbolamenti quanti sono? Sono aumentati, sono circa 2.400. Se consideriamo che il teatro ha 800 posti, abbiamo solamente sui 10-12 biglietti a spettacolo da poter vendere. Ci vorrebbe quasi una quarta sera, un quarto, una quarta. Ma, guardi, non lo so. Nel senso che chi passa in città dice, vede Carlo Cecchi, vuole entrare. Io sono sempre, perché mi spiace, ma preferisco sempre che qualcuno assista, per così dire, a uno spettacolo, a un concerto in piedi, che non il teatro sia vuoto o semi vuoto. Bisogna dirlo a quello che sta in piedi. Bisogna dirlo a quello che sta in piedi, però nel momento, non c'è nulla di più brutto. Lei dice poi, insomma, mezza sala piena. No, è bruttissimo. O meglio, mezza sala vuota non è bello. È bruttissimo sia e soprattutto per chi è sul palco scenico. Per chi recita. E poi anche non si crea quell'atmosfera calda che, insomma, è indispensabile per assistere ad ogni spettacolo, insomma. Quindi noi siamo contentissimi, perché in sette anni, questa è la settima stagione, un po' alla volta si sta crescendo. Di fatto, tre sere, sempre tutto esaurito, perché gli abbronati sono... Sì, vendiamo quasi tutti in abbronamento, naturalmente lasciamo un minimo che quest'anno si è ancora ridotto per quanto riguarda lo sbigliettamento. Però, insomma, ecco, c'è stata questa risposta che, devo essere sincero, quest'anno avevamo un po' qualche timore, perché con questa crisi, no, che c'è, e invece abbiamo avuto... Magari per evitare la crisi uno fa un piccolo sacrificio, ma almeno si va a vedere qualcosa di bello. Sì, anche perché, diciamo, chiaramente, se consideriamo i costi, insomma, dell'abbronamento... Eh, quanto costo? E se consideriamo quelle delle città di Mitrofe, o anche delle grandi città, insomma, sono prezzi molto bassi. Quanto costa l'abbronamento? Ma l'abbronamento più alto, cioè in platea... I primi posti in platea? Sono 200 euro per 9 spettacoli. Fino a scendere, il più economico, mi sembra che sta sui 40 euro, 35-40 euro, una cosa del genere, considerando la riduzione. Poi mettiamo anche che agli studenti applichiamo il 50% di sconto sugli abbonamenti, insomma, quindi veramente cerchiamo di far di tutto. Allora, io l'appuntamento lo do lo stesso, anche se gli abbonati lo sanno, però oggi c'è alle 17... La pomeridiana. La pomeridiana, lo spettacolo invece domani? No, stasera alle 21. No, no, sempre stasera, no, sempre stasera, mercoledì, no, c'è alle 21. L'altro turno sarà, sì. Però è una bella fatica per chi sta sul palco a fare due spettacoli al giorno. È una bella fatica, non tutti lo fanno, infatti, non tutti lo fanno, no. Devo essere sincero, chi è che fa questo? Sono soprattutto gli attori più, per così dire, teatrali, che sono più abituati a stare sul palco scenico. Diciamo, gli attori, per così dire, quelli più televisivi, invece, si rifiutano. Ho già pagina e vedo che la Unziker spalmerà lo spettacolo su tre date, vero? Esatto, è così, che vogliamo fare? O magari si stancherà di più perché sarà... È possibile, è possibile anche, però questo l'abbiamo notato, cioè gli attori di teatro proprio non hanno problemi, non hanno problemi, non hanno problemi. Senza alcun problema. Quindi oggi due spettacoli, le 17 e alle 21, l'appuntamento è con sogno di una notte d'estate. Poi, per il grande pubblico, c'è Mi Scappa da Ridere, con Michel Unziker, martedì, mercoledì e giovedì, 22, 23 e 24 novembre. Sì, questo spettacolo debutterà quest'anno, se non sbaglio, il 10, oggi è 9, quindi domani al Teatro Sistina di Roma, infatti stanno facendo una grande pubblicità per questo evento, uno spettacolo che è andato anche lo scorso anno in giro per l'Italia, ha avuto un buon successo. D'altra parte, la Unziker è un importante personaggio. C'è anche il Mago Forrest, addirittura con la partecipazione virtuale. Sì, virtuale, perché ci sono degli effetti teatrali molto particolari. D'altra parte è prodotto dalla Ballandi, che sapete essere proprio un produttore televisivo, quindi per così dire. E anche tra gli autori ci sono autori di spettacoli televisivi, non solo come Francesco Freri e Riccardo Cassini. È uno spettacolo proprio di impronta televisiva, dall'altra parte con la Unziker non poteva essere diversamente. Allora, poi invece proseguiamo con... Proseguiamo con Napoletango, questo è un altro grandissimo teatro prodotto dal Teatro Eliseo di Roma. Questo è il primo di dicembre, 6 e 7 dicembre. Questo non ricordo che lo scorso anno proprio Ugo Pagliai mi telefonò per dire che era stato all'Eliseo, a Roma, a vedere questo spettacolo e mi disse, guarda, assolutamente il prossimo anno lo dobbiamo portare a Teramo perché è veramente bellissimo. Infatti ci siamo riusciti e così abbiamo fatto. E poi altri attori che richiamano il grande pubblico per lo spettacolo del 10 e 11 gennaio, sempre tre date, sempre tre spettacoli. Cioè ci sono Massimo Ghini e Cesare Bocci con il vizietto. Massimo Ghini, vabbè, conosciuto magari Cesare Bocci, non ve lo ricordate bene come nome, ma è l'aiutante del commissario Montalbano. Il commissario Augello. Un attore molto conosciuto. Questo mi fa anche ricordare, adesso che lei le diceva il nome di questo spettacolo, che ben tre spettacoli della stagione di Teramo sono inseriti nella stagione del Teatro Sistina di Roma. Quindi quest'anno purtroppo Sistina di Roma farà meno di molti abbonati della città di Teramo perché insomma li porteremo anche noi qui nella nostra città. Poi con lo spettacolo in programma il 27 gennaio al comunale c'è una teramana, la vedo qui in foto. C'è Elisa De Osagno. Trappola per topi con Elisa De Osagno, uno spettacolo che ha avuto un successo straordinario. E sappiamo anche che il personaggio, l'attore più applaudito è proprio Elisa. Quindi ne siamo veramente contenti. Un altro protagonista di fiction e di cinema, Alessandro Preziosi con il Sirano de Bergeracca. Alessandro Preziosi, altro grande attore che proprio in questi giorni, non so se su Canale 5, sta facendo una fiction. Che poi tre o quattro giorni fa è stato nominato nuovo direttore artistico del Teatro Stabile abruzzese. Quindi insomma per noi abruzzesi è un grande vanto, una grande soddisfazione perché insomma è un artista importante. Preziosi con il Sirano ci sarà 7, 8 e 9 febbraio a Teramo. Poi che altro abbiamo? Tutto su Mia Madre tratto dal film di Almodovar con Elisabetta Pozzi. Elisabetta Pozzi che è considerata una delle più grandi attrici teatrali del momento, bravissima. Lo spettacolo ovviamente è molto forte insomma per chi ha visto il film negli anni presentato negli scorsi anni. Credo sia stato anche premio Oscar tutto su Mia Madre. Non ricordo sinceramente. Poi c'è Monica Guerritore che interpreta Oriana Fallaci in Mi chiedete di parlare. Parlare, questo Monica Guerritore è una bravissima attrice. Abbiamo avuto qualche anno fa con Giovanna d'Arco. Fu uno spettacolo della durata di un'ora, non di più. Con lei da sola sul palcoscenico. Ricordo che in quell'ora non, come si dice, non balava una mosca. Riuscì a captare l'attenzione di tutto il pubblico. Fu un grandissimo successo, veramente straordinario come attrice. E poi c'è Peter Pan. Peter Pan, musical... 27-28 anni. Sì, sì, che ha avuto grande successo negli anni passati. Quest'anno è stato ripresentato, riproposto e prodotto dal Teatro Sistina di Roma. Approfitto anche per ricordare che qualche anno fa ci fu proprio un accordo tra Teramo, Teatro Sistina di Roma. Questo ci permette di portare spettacoli anche prodotti dal Teatro Sistina nella nostra città. Fu un bel riconoscimento e vediamo che sta dando i suoi frutti. Perché, come dicevo prima, tanti spettacoli che passano dal Sistina o vengono prodotti direttamente da quel teatro, arrivano a Teramo. Allora, la stagione dei concerti invece è in svolgimento. La stagione dei concerti è in svolgimento. Partita l'8 ottobre. Con Dughi, sì, poi è cominciato, c'è stato già il secondo concerto che ha aperto il ciclo delle nuove sinfonie di Beethoven e stiamo portando avanti questo ciclo. Se non sbaglio il 15, probabilmente c'è il secondo spettacolo. Il 15 il prossimo spettacolo, l'archestra sinfonica bruzzese. Sì, adesso non ricordo che le sinfonie ci sono. Sinfonie 4 e 7. La quarta e la settima sono molto, molto belle. E devo dire che stiamo facendo un nuovo esperimento, cioè quello di realizzare questi cinque concerti del ciclo Beethoven al Parco della Scienza. Il Parco della Scienza, per quanto ci riguarda, è un luogo relativamente nuovo. Funziona per la musica? Funziona molto bene. Devo dire anche e approfitto per ringraziare sia il comune di Teramo che ci ha dato la disponibilità della sala e sia la ditta Ballone che ha messo a disposizione un servizio di bus gratuito che porta la sera prima del concerto alle 20.30 da Piazza Garibaldi alcuni abbonati per chi volesse appunto al Parco della Scienza e al termine del concerto li riporta in Piazza Garibaldi. Quindi un servizio in più che abbiamo voluto offrire ai nostri abbonati, ma anche ai non abbonati che volessero in ogni caso partecipare a questi concerti. Devo dire che è un posto che si presta molto bene. Io dico sempre, anzi ultimamente sto un po' provocando in questo senso, mi auguro che la provocazione in qualche maniera possa essere qualche raccolta, e cioè che il Parco della Scienza, la sala del Parco della Scienza, possa diventare l'auditorium proprio per la concertistica della città di Teramo. Naturalmente con accorgimenti acustici potrebbe essere veramente una sala che si presta molto bene, una bella sala grande, tanti posti, ampio parcheggio all'esterno, c'è, ci sono stanze da adibire a Camerini, c'è un bellissimo ingresso che potrebbe ospitare anche un guardarobba, c'è una galleria che se è messa a norma potrebbe ospitare altro pubblico, ripeto, risistemate in un certo punto, in un certo modo dal punto di vista acustico, potrebbe diventare proprio l'auditorium di Teramo. Allora la stagione dei concerti andrà avanti fino ad aprile. Fino ad aprile con Leonardo Gelber, un grandissimo pianista argentino, che è stato da noi 25 se non sbaglio anni fa, lo ripropioniamo dopo tanto tempo perché insomma è diventato un grande devastiere. È stata presentata l'altro giorno la stagione internazionale della danza. Della danza, questo è un altro grandissimo progetto che proponiamo dallo scorso anno perché era l'ultimo tassello per quanto riguarda le stagioni qui da offrire nella nostra città, quindi dopo la stagione dei concerti, stagione di prosa, stagione lirica, mancava la stagione di danza. Siamo partiti lo scorso anno con circa 600 abbonati, anche qui non ce lo aspettavamo, quindi quest'anno abbiamo aumentato di uno spettacolo, quindi sono tre gli spettacoli proposti e abbiamo anche messo i posti numerati al teatro per dare la possibilità a tutti di scegliere il proprio posto e quindi senza rincorrersi la sera al teatro per scegliersi, accaparrarsi il posto migliore. Ci contiamo molto, proprio da questa mattina alle 9 nella sede della Riccitelli partirà la prevendita. Naturalmente tutti i giorni gli uffici rimarranno aperti per dare la possibilità a tutti di acquistare gli abbonamenti che abbiamo mantenuto al minimo, cioè c'è un abbonamento massimo, quello più alto per i tre spettacoli che parte da 50 euro per scendere se non sbaglio fino a 22 euro, insomma quindi veramente per dare la possibilità a tutti in un momento iniziale di una nuova attività di partecipare a questa bellissima iniziativa. Le date? Eh, e adesso non le ricordo, però la prima data se non sbaglio è il 5 di dicembre. Quindi la prima è prossima insomma. Sì, il 5 dicembre è il Lago dei Cigni con la compagnia, il balletto di Mosca, poi si andrà a gennaio con la Bayader, la compagnia del teatro slovacco e poi ci sarà la Carmen con Rossella Brescia a fine febbraio. Vabbè, quindi anche questa è una stagione sicuramente completa insomma per quello che propone. E devo dire che come riportavano i giornali da sottolineare che abbiamo voluto dedicare questa stagione di danza a Liliana Merlo, che sappiamo essere il punto di riferimento per la danza, è stato il punto di riferimento della danza per tutto il, non solo per Teramo, per la provincia, la regione, ma per tutto il centro d'Italia. Una personalità molto forte e determinata che ha fatto in modo che la cultura della danza si, in qualche maniera, come si può dire, passasse su tutto il nostro territorio. Allora, gli abbonati abbiamo detto, questo grosso esploat per quanto riguarda la stagione di prosa, per la stagione dei concerti? I concerti sono circa 400 abbonati, quindi sono tantissimi se consideriamo un'attività un po' più di micchia rispetto a quello della musica classica rispetto al teatro di prosa. E poi c'è l'altro elemento importantissimo da non sottovalutare che affianca tutte e quattro le stagioni l'attività del circolo, amici della musica e del teatro, primo Riccitelli, sono circa 150 iscritti che partecipano ad iniziative anche collaterali che possono essere anche, per dire, viaggi musicali e diciamo, lasciamo all'interno dell'attività del circolo anche un ampio spazio ai giovani, alle nuove carriere, ad artisti anche del luogo, insomma, che si stanno affermando. È un'attività molto importante, il circolo è coordinato dalla professoressa lauretana Faderi, siamo anche molto soddisfatti, quest'anno si andrà, anzi, siamo stati la scorsa settimana al comunale di Firenze per assistere a un bellissimo concerto diretto da Zubimeta, a Torino, periodo natalizio, andremo al Teatro Reggio e poi a fine aprile e maggio andremo anche a New York, al Metropolitan, per assistere alla Madonna di Massnè. Quindi, insomma, sono diversi anni che si sta lavorando in questa maniera per sensibilizzare ancora di più il nostro pubblico e fare in modo che possano assistere con maggiore cognizione alle nostre attività artistica. Bene, bene, allora, ci possiamo salutare. Io ringrazio il Presidente Maurizio Coccioli, del Presidente Riccitelli, perché abbiamo fatto, credo, una bella panoramica su tutte le attività curate proprio dalla Riccitelli. Ricordiamo che è cominciata la stagione di prosa ieri e oggi ci sono due spettacoli, il Comunale Sogno di una notte d'estate, con Carlo Cecchi, regia di Carlo Cecchi, da William Shakespeare e ovviamente tutte le altre iniziative. Grazie, grazie per essere stato qui con noi questa mattina. Adesso un po' di pubblicità e poi cambieremo argomento. La tua rata con noi pesa meno e la differenza conta. Rata OK offre la rata più bassa e il miglior finanziamento per mutui e prestiti, con tassi ai minimi storici e senza costose intermediazioni. Approfittane! Rata OK a Teramo in via Kona 44, info 0861-1990-183 oppure 366-5286-914. Rata OK, fa la differenza! C'è un segreto per spendere meno sul gas. Si chiama Iulia Servizi Più, una società giovane e dinamica specializzata nella fornitura di gas metano ad uso civile ed industriale. Sono già oltre 10.000 i clienti nel solo comune di Giulianova, ma anche a Teramo, iniziano ad apprezzare la convenienza e le qualità di Iulia Servizi Più. Gestione e vendita di gas metano, con agevolazioni che prevedono anche la rateizzazione di pagamenti. E allora, che state aspettando? Chiamateci per una consulenza gratuita ai numeri 085-876-51 e 085-800-1111. Oppure venite a trovarci a Giulianova, in corso Garibaldi 65. Prosperi Costruzioni Immobiliare realizza e vende unità abitative, residenziali e non. Da oltre 40 anni opera nel campo dell'edilizia e nel settore immobiliare, garantendo un'alta qualità del servizio e la massima elasticità nei pagamenti. Prosperi Costruzioni Immobiliare valuta eventuali permute e soddisfa in maniera puntuale ogni richiesta. Prosperi Costruzioni Immobiliare e invia Antonio Vivaldi 2 a Fontanelle di Atri, Teramo. Telefono 085-87-08-556. Visitaci su pmcostruzioni-srl.it Abruzzo Village per essere informati su ciò che accade nel villaggio Abruzzo. Vi raccontiamo i fatti più importanti della settimana, ma nel modo in cui voi lo vorreste. Cronaca Più secca e meno spettacolare Politica Meno litigiosa e più libera Economia Terminologia più semplice e differenza fra economia reale e finanza Cultura Bisogna vivere la cultura per poterla trasmettere Pop Più disinteressato, più passionale e più partecipato. E poi un momento molto speciale, ogni settimana un'intervista al personaggio della settimana per scoprire meriti e demeriti dei protagonisti della nostra terra, del nostro villaggio Abruzzo. Ogni venerdì 20 e 30 su Teleponte. Bene, eccoci di nuovo, io non mi sono mosso a dir la verità, qui nel nostro salottino giallo per parlare di un aspetto particolare. Grazie alla presenza di Pasquale Tiberi, buongiorno. Buongiorno Dino, buongiorno. Che è un consigliere comunale a Terra, un consigliere comunale di maggioranza del PDL, che ci parlerà di una cosa particolare. Il convenzionamento con il Tribunale di Terra per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità. Detta così? Sì. No, abbiamo capito e non abbiamo capito. Ma adesso cerchiamo di entrare nel merito. Di che parliamo? Dunque, Rino, parliamo di un'iniziativa che mi è stata sollecitata fortemente da molti cittadini, soprattutto giovani, ma anche da molti colleghi avvocati, anche nella mia veste di consigliere dell'ordine degli avvocati. Parliamo di una possibilità che è prevista dalla legge, con la riforma del 2010 del Codice della Strada, è stato introdotto il comma 9 bis dell'articolo 186, il quale appunto prevede la possibilità di ottenere il mutamento della sanzione della pena detentiva e della pena pecuniaria con lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità. Ah, ecco qua. Dunque, evitiamo magari un tecnicismo troppo stretto. Il Codice della Strada prevede, l'articolo 186, la guida in stato di ebrezzo sotto l'uso di alcol, e prevede tre fasce di valori, entro i quali poi sono determinate le rispettive sanzioni. La prima fascia, che è la fascia più leggera, da 0,5 a 0,8, vi è solo una sanzione amministrativa che va da un minimo di 500 euro a 2.000 euro, è la sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi. Questa è la prima fascia. La seconda fascia, che invece è già sienta nel penale di competenza del giudice monocratico del Tribunale, abbiamo un'ammenda da 800 euro a 3.200 euro, un arresto fino a 6 mesi e la sospensione della patente di guida da minimo di 6 mesi. Poi la terza fascia, che è quella più alta, abbiamo un'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, l'arresto da 3 mesi ad un anno, la sospensione della patente da un anno a due anni e in ogni caso la confisca del mezzo, a meno che non sia di una persona estranea al reato, cioè di proprietà di alta persona o di società di leasing o altro. Quindi, la possibilità invece prevista dal comma 9 bis del 186 è che, soprattutto, chiaramente in queste due fasce dove è prevista la sanzione penale, ci sia la possibilità di chiedere la conversione della pena detentiva e dell'ammenda nello svolgimento di lavoro di pubblica utilità. I vantaggi grandi di questa possibilità offerta dalla legge sono che, dopo aver scontato il lavoro di pubblica utilità che viene determinato nella sentenza di condanno, nel decreto penale, se non vi è l'opposizione dell'imputato, sul richiesta, col patteggiamento, poi queste sono varie questioni procedurali tecniche che correranno i difensori, il vantaggio è che viene ridotta del 50% la sanzione amministrativa della sospensione della patente. E soprattutto viene eliminata la confisca, cioè viene restituito il mezzo, cosa che attualmente non è possibile, altrimenti il mezzo viene confiscato e viene venduto dallo Stato. Quindi la persona che è sottoposta a misura di confisca deve riacquistare una macchina. Molte volte si trattano di macchine acquistate con grandi sacrifici, che ancora magari le persone stanno pagando, quindi si trovano a dover pagare le rate del prestito, non poterla utilizzare, dove la ricomprare una seconda volta. Quindi in questa maniera invece si riesce ad ottenere questa misura. Quindi viene restituita, ovviamente questo avviene all'esito poi del controllo del regolare svolgimento. E in cosa possono essere impiegati poi? Quali sarebbero questi lavori di pubblica utilità? Allora, la legge prevede che deve esserci ovviamente una convenzione tra enti o associazioni, enti con le regioni, province, comuni o anche associazioni, con il Tribunale del luogo territoriale. Quindi in questo caso il Comune? In questo caso, su una mia iniziativa, e mi preme ringraziare tutti i gruppi consigliari, perché l'ordine del giorno è stato votato all'unanimità da tutti i gruppi consigliari, l'ordine del giorno approvato appunto in Consiglio Comunale, faceva rivenimenti, cioè vincolava, insomma invitava il Sindaco e la Giunta a stipulare questa convenzione con il Tribunale. Ovviamente io mi ero adoperato anche con il Presidente del Tribunale, dottor Spinosa, il quale aveva manifestato fin da subito la pronta adesione del Tribunale. È stata recentemente, il 28 ottobre, firmata questa convenzione dal Sindaco Brucchi e dalla dottoressa Tomolini, sul delega del Presidente del Tribunale, quindi attualmente esiste questa possibilità, che fino ad ora non era prevista per il Comune di Teramo. Erano altri comuni della provincia che già avevano effettuato questa possibilità, ma il Comune di Teramo no. E quindi adesso c'è? Adesso c'è. Che tipologie però di lavori possono fare? Allora... Cioè se mi beccano... Allora innanzitutto... Sono ubriaco, insomma. Innanzitutto dobbiamo dire questo, che nel momento in cui viene accertato il tasso alcolemico e quindi si determinano le fasce del 186, tranne la prima, come abbiamo detto, quindi che c'è solo una sanzione amministrativa... Quanto basta per la prima fascia? Tanto per andare... La prima fascia basta 0,5. 0,5... Fino a 0,499 non c'è, non c'è la... Due bicchieri di birra? Beh, diciamo a stomaco vuoto sì. Ci si va, già ci si entra? No, no, per dirlo... Un aperitivo... Tutti ai ragazzi... Un aperitivo a stomaco vuoto, già basta penso un bicchiere di vino di giorno sicuramente. Porco... Eh, infatti è un fenomeno largamente avvertito. Da una parte, chiaramente è giusto che ci siano i controlli che le forze dell'ordine effettuino perché si rischia una vita con la guida in stato di abbrezza. È vero anche che magari per molti anni è stato un fenomeno, diciamo, tollerato o comunque in una certa maniera morbido la posizione. Cioè, adesso invece da 3-4 anni a questa parte le norme sono state molto più dure anche perché i pari passi con la legislazione europea, anche l'Italia, si è dovuta adeguare ovviamente, ma nel giusto, non è che per la riduzione degli incidenti statali e della mortalità negli incidenti statali. Leggevo qualche statistica che negli ultimi 3 anni i controlli effettuati dalle forze dell'ordine sono più che raddoppiati. Però a questo numero di raddoppio di controlli c'è stata una diminuzione delle misure, appunto queste più dure, della confisca. Questo sicuramente anche per merito di questa possibilità offerta alla legge del lavoro di pubblica utilità, che è un, insomma, tecnicamente funziona così. Cioè, una volta che viene determinata la pena, ci sono per esempio l'arresto e poi l'ammenda. I giorni di arresto si contano come giorni di lavoro di pubblica utilità. L'ammenda, ogni 250 euro di ammenda equivale ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. Quindi per fare un esempio, se tu rientri, insomma, nella seconda fascia, dove abbiamo visto che c'è un arresto fino a sei mesi, ovviamente la prima volta l'arresto non è sei mesi, viene dato tre mesi, quindi sono 90 giorni. Poi c'è un calcolo di circostanze aggravanti, perché è previsto un aggravante se il reato è commesso dopo le 22 di sera, fino alle 7 di mattino. Quindi c'è un ulteriore aumento della pena. E comunque se uno è incensurato e semplicemente è ubriaco, finisce in galera? No, in galera non ci finisce, perché questo... Però la pena ce l'ha. Però la pena ce l'ha. E prima della possibilità del lavoro di pubblica utilità, di fronte a un decreto penale di condanna o una situazione a giudizio dove poi c'era una sentenza, non è che vi erano grandi possibilità di opposizione, perché nel momento in cui viene accertato il reato con le modalità previste dalla legge, quindi il doppio controllo, distanza di 5 minuti, con l'etilometro, è difficile poi lì andare a scardinare quella che è la prova delle forze dell'ordine con l'accertamento che c'è stato. Quindi dicevo, viene determinata la pena, non sono 90 giorni di arresto e 1000 euro di ammenda, quindi 1000 euro di ammenda sono 4 giorni, quindi 94 giorni, ogni giorno corrisponde a 2 ore di lavoro di pubblica utilità, quindi tu devi andare 94 volte per 2 ore alla volta a svolgere questo lavoro di pubblica utilità. Ora, tecnicamente poi la convenzione ha stabilito che il comune di Teramo consente a 10 persone l'anno di essere adibito a questo lavoro di pubblica utilità. Quindi... Ancora non c'è stato nessun caso? Dunque, qualche collega mi diceva che la convenzione è stata firmata il 28 di ottobre, il lunedì successivo... Già c'è stato un lavoratore di pubblica utilità. No, c'era già qualche richiesta. Adesso i colleghi sanno benissimo che prima di chiedere al giudice questa conversione è opportuno chiedere alla disponibilità all'ente, perché se è già pieno il giudice non può mai poi chiaramente convertirla nel lavoro di pubblica utilità presso il comune di Teramo. Deve starci la possibilità, ovviamente. Deve starci la possibilità. Ecco, questo tecnicamente funziona così. Poi, nel momento in cui c'è questa possibilità, il giudice normalmente rinvia il processo ad un'udienza successiva, tipo ad un anno, un anno e mezzo, per verificare il corretto svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che deve essere verificato da una parte dal dirigente del settore comunale, in questo caso da un dirigente del comune, ovvero anche dall'ufficio dell'esecuzione penale o dai carabinieri su richiesta del pubblico ministero. Che cosa succede? Se tutto fila dritto, quindi se il lavoratore di pubblica utilità si presenta regolarmente, svolge il suo servizio e quindi c'è una relazione del dirigente o dell'ufficio dell'esecuzione penale corretta, allora all'udienza che il giudice aveva fissato del rinvio verrà dichiarato estinto il reato, verrà ridotta del 50% la sanzione amministrativa della sospensione della patente e revocata la confisca, altrimenti nel caso contrario si torna a scontare la pena originaria che era prevista, quindi il periodo di pubblica utilità non viene conteggiato e si riparte da prima, dall'inizio, con la condanna originaria. C'è un costo per questa... Per l'amministrazione? Per l'amministrazione? No, infatti la legge parla di attività non ritribuita da svolgere il rischio. Quindi non ci sono costi per... Gli unici costi che l'amministrazione sostiene sono gli oneri assicurativi e previdenziali per il lavoratore che deve svolgere l'attività, ma altrimenti è completamente gratuito. L'amministrazione ha nella convenzione individuato quelli che sono i settori nel quale poi possono essere adibiti questi dieci lavoratori. Il punto è portare a conoscenza questa cosa, perché può essere in effetti una valvola di sfogo per chi è incappato in... Una possibilità che viene offerta dal legislatore per ovviamente cercare di rimediare a quella che è stata un reato, perché in effetti è un reato, un reato anche di una... Che noi adesso stiamo parlando, magari che uno viene beccato, tranquillamente, sta nella macchina e non ha commesso, però pensiamo se c'è stato un incidente, se ci sono stati dei danni verso... Bravo, ti volevo precisare questo, che questa possibilità è offerta dalla legge purché non si sia causato un sinistro. Cioè questo vale nell'attività di semplice controllo delle forze dell'ordine che ti fermano, controllano il tasso alcolemico... E non è successo niente, né incidente verso cose, né un incidente causato da te, o se sei stato coinvolto in un sinistro, o se sei andato contro qualcosa, cioè un semplice controllo che ti fermano, ma diciamo che è un numero elevato degli accertamenti che viene effettuato. E' una grossa possibilità per rimediare che la legge dà, ovviamente questo lavoro di pubblicità deve essere fatto nella maniera corretta e certificata, altrimenti diventerebbe un modo per sfuggire a quella che era... Non so proprio di dicere, va bene. E quindi i settori nel quale l'amministrazione... Eh, li può impiegare questi... Ma io nell'ordine del giorno infatti avevo manifestato la volontà che questi lavoratori, anche sulla base di esperienze di altri paesi, vediamo nel mondo anglosassone, anche molte star sono state... Sì, sì, mi ricordo le foto... Naomi Campbell che spazzava la città di New York. È vero, è vero, o boi giorni. Quindi sono misure che negli altri paesi da tempo esistono e l'indirizzo dell'amministrazione è quello di utilizzare questi lavoratori, per adesso abbiamo messo nella convenzione un numero di 10 perché anche noi non è che siamo, insomma, partiamo adesso con questa sperimentazione, si possono poi aumentare nella manutenzione dei siti archeologici, quindi nel decoro, nella pulizia o anche nel campo della sicurezza stradale, nelle scuole, perché la legge consente individui a particolare ai settori, non è che tu puoi andare oltre quelli che sono i settori individuati, però diciamo che questi sono pulizia, decoro, manutenzione, siti archeologici e sicurezza stradale nelle scuole, nelle campagne magari di sicurezza stradale che il Comune intende promuovere nelle scuole, adibire quindi queste persone. Ripeto, ogni due ore di lavoro di pubblica utilità equivalgono ad un giorno di arresto o 250 euro dell'amministrazione. Quindi chi è incappato magari in controlli e gli è stata ritirata la patente, si può informare presso? Sì, è opportuno ovviamente in questi casi sempre rivolgersi ad un legale. Ad un proprio avvocato? Certo, certo. E quindi chiede quali possibilità ci sono per rivolgere questi lavori di pubblica utilità? Certo, altrimenti altre possibilità sono ovviamente quello del patteggiamento, perché ti ripeto, scardinare poi la prova dell'etilometro non è mai facile. Ci sono situazioni effettivamente in cui magari uno prende determinati farmaci che possono poi determinare un aumento del tasso alcolemico per le sostanze contenute nei farmaci, però nella media se c'è un accertamento dell'etilometro ripetuto due volte in cinque minuti diventa poi particolarmente difficile batterla come prova. Allora attualmente l'unica possibilità era la sospensione condizionale della pena, invece è così, non ti giochi la sospensione condizionale e svolgi un lavoro di pubblica utilità. Bene, io ringrazio il consigliere comunale di Teramo, Pasquale Tiberi, che ci ha parlato di questa novità presa dal Comune di Teramo in convenzione con il Tribunale per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità. Grazie a te per essere stato con noi questa mattina. L'Avvocato Tiberi adesso una breve pausa pubblicitaria e poi ci occuperemo di libri. Dolcezza, golosità, genuinità, in una sola parola, PAC. Dal 1978 PAC è leader nel campo della distribuzione di prodotti dolciari e non solo, per offrirti un prodotto di qualità superiore. Da dieci anni PAC è entrata nelle case degli italiani con la bontà, la fragranza, la ricercatezza delle confezioni regalo curate nel minimo dettaglio. PAC realizza cesti natalizi personalizzati e lo spazio aziendale ti aspetta dalla prima decada di novembre con un omaggio dedicato ad ogni cliente. PAC, professionalità e passione per offrirti un mondo di golosità. Lui non credeva più nell'amore e invece... Oh, mi scusi. Anche lei non credeva più nell'amore. E invece... Perché non muoti? Era bellissima. La ragazza più bella che abbiamo incontrato. Ma l'ho persa. E' sparita. Non la rivedrò più. Entrambi non credevano più nell'amore. E invece... La magia di quei luoghi li aveva fatti innamorare di nuovo. Ma all'improvviso... Che vuol dire che devi partire? Non ce ne puoi andare adesso. Perché no? Ma non potrebbe funzionare. Viviamo troppo lontano. Ma l'amore vero... Non conosce distanze. Sono tornato spesso al posto in cui ti ho vista la prima volta. Speravo sempre di ritrovarti lì. L'amore fa girare il mondo. Lasciati trasportare. Da oggi. Nei paesaggi più belli d'Abruzzo. Radio Sunnit con evoluzione 2011 presenta Medinet. Un programma all'avanguardia che ti permette la prenotazione online degli esami disponibili presso la sua moderna struttura sanitaria. Comodamente da casa o addirittura con il cellulare, ora è possibile accedere direttamente al database ed effettuare la prenotazione. Un SMS confermerà l'appuntamento. Questo, grazie al costante investimento in tecnologia e innovazione che Radio Sunnit mette al servizio del cittadino con evoluzione 2011. Radio Sunnit. Prenderci cura di te. Il nostro dovere. Per prenotazioni online www.radiosunit.it Allora, adesso siamo qui nell'ultimo brano del prima di tutto del mercoledì, quello di cui è titolare da sempre. Simone Gambacorta. Buongiorno, Simone. Buongiorno. Buongiorno. Allora, le proposte di oggi ci sono. Le proposte di oggi sono tante, ma soprattutto... Ma le iniziative? Scusate, ecco, siamo partiti sbagliando. Sbagliando, le cose da dire sono tante. Sono tante e non riguardano solo i libri, ma ovviamente anche le iniziative. La settimana come è andata? Bene, benissimo. Intensa, ma bene. Allora, prima di tutto devo dire che dopo diverso tempo finalmente sono riuscito a conoscere il nostro fidato amico dell'espettatore Antonio. Sì, lo stava raccontando, ma poi è finita la pubblicità. Lo dico perché, insomma, è uno, come dire, partecipa alla nostra missione, quindi è un ospite presente in qualche modo. Come te l'hai rimmaginato, hai risposto alle tue... Non avevo l'idea precisa, però stavo camminando, mi sono sentito chiamare e mi ha detto, sono Antonio, mi appalesio. E quindi da lì abbiamo fatto questa conoscenza, meno male, mi ha fatto molto piacere. E quindi, insomma, lo volevo dire perché riceviamo i suoi messaggi e mi sembra una cosa opportuna di segnalare. Poi, volevo, tra gli appuntamenti che ci sono in programma, ce n'è uno che mi sta molto a cuore, anche perché sono coinvolto in prima persona, ma non è solo per quello, è per l'importanza dell'evento in sé. Cioè il secondo appuntamento del Fai Salotto. Fai Salotto del Fai. Fai Salotto del Fai. Il Salotto culturale del Fai, sezione di Teramo, di cui è il presidente Franca Di Carlo Giannella. C'è stato il primo evento, come tutti ricordiamo, sulla musica e il rapporto tra la dimensione sonora, l'ambiente, e l'ecologia sonora dell'ambiente con il maestro Antonioni. Il 18, alle 17, nella sala consigliare del comune, ci sarà la seconda puntata, chiamiamola così, di questo evento. Del Fai Salotto. Del Fai Salotto con la presenza molto, molto importante di Francesco Sabatini. Francesco Sabatini è il presidente dell'Accademia della Crusca, istituzione di somma importanza, e verrà a parlare appunto della lingua italiana. La cosa chiaramente vede in prima linea, oltre alla presidente del Fai, Laura De Bernardinis, che coordina tutti i lavori e intervisterà il presidente Sabatini, il quale sarà introdotto da un suo amico, dall'ingegner Sergio Di Padova, che ne leggerà ai presenti il curriculum, perché sappiamo tutti chi sia Sabatini e quanto importante sia la sua statura scientifica. Ma il percorso che c'è alle spalle di questo studioso, che appunto è titolare di una vita di studi, è ricco, variegato, è improntato a una esemplare coerenza, e quindi questo mi sembra, è opportuno che vi sia una presentazione. Interverrà anche, perché nascono poi le collaborazioni, la preside del liceo Delfico Montauti, cioè classico artistico, cioè la professoressa Luredana di Giampaolo, e insomma questo il 18 alle 17 nella sala consigliere del comune, alla presenza naturalmente del sindaco, che in quel caso fa anche da padrone di casa. Questo è il secondo appuntamento del Faisalotto, che però ha già, e poi lo vedremo cammin facendo, una serie di altri appuntamenti. Già programmati. Sì, sì, già programmati. Devo dire che sin dal primo momento la risposta è stata eccellente, perché c'è stata un'ottima partecipazione di pubblico, con una partecipazione nel mentre, cioè al momento della lotta. Sicuramente l'esperienza la replicheremo anche in quest'altro anno. Simone, prima delibrio a proposito di iniziative. Sì. Ma il premio termo? Architetto, il premio termo, io non sono in grado in questo momento di darti delle informazioni, purtroppo me lo si chiede. Tu sei uno dei giurati. Sì, tecnicamente sì. Non ho partito. È in stand-by. L'edizione ultima utile c'è stata il 12 giugno 2010, in Piazza Sant'Anne. E poi c'è un attimo di stand-by. Vediamo. Peccato, insomma, ripartirà. Credo che riparta, sì, credo che riparta. Siamo in attesa che avvenga la ripartenza. Però a proposito di premi, hai fatto bene, ma al di là del convitato di pietra, premio Teramo che c'è o non c'è, Il 24 di novembre ci sarà la terza edizione, il 18, Faisalotto con Sabatì. Il 24 la terza edizione del premio Nino Di Giacinto per il contributo alla crescita di Teramo, del quale poi parleremo. Intanto volevo dire che è slittato per questioni logistiche, ci sarà una nuova location, che sarà la Sala San Carlo. Insomma, ci saranno un po' di novità. Terza edizione, il 24 novembre. Promosso da Marcello Schillaci, noto a noi tutti. Quindi questi due appuntamenti, il 18 e il 24. Faisalotto, il 18, il premio Nino Di Giacinto, il 24. Poi, entriamo momentaneamente sui libri, vi ricorderete che l'altra volta abbiamo parlato di questo libro. Non è che ne ho parlato mai, io ne ho parlato oggettivamente. C'è un libro che si intitola Pierpaolo Pasolini raccontato ai ragazzi. E ti dicevi che si rintracciava poco Pasolini. Qualcosa ogni tanto uscì. Allora, il libro si compone di 308 pagine, come ho detto l'altra volta, i vi compresi, i ringraziamenti, i saluti e quant'altro. Bene, fino a pagina 248, Pasolini ogni tanto compare come una specie di casualità. A pagina 248, quindi dopo ben 248 pagine su 308, inizia a esserci un qualcosa che paia a giustificare il titolo. Però prima ci sono 248 pagine che non ho capito che cosa ci stanno a fare. Ed è bene che questo aspetto lo si tenga presente prima di spendere i 17 euro che costa, che equivalgono al costo di questo libro, che è appunto di Fulvio Abate, Pierpaolo Pasolini raccontato ai ragazzi, però raccontato così così dopo 248 pagine. E quindi insomma lo acquisiamo agli atti, ma insomma insoddisfazione. Lo acquisiamo agli atti, Fulvio Abate, Pierpaolo Pasolini raccontato ai ragazzi. Ai ragazzi. E invece? Poi c'è stata un'altra cosa importante, prima di parlare di questo volevo dire che c'è stata il 5, la presentazione del libro di Marcello Veneziani, alla Banca di Teramo, Vivere non basta, sottotitolo Lettere a Seneca sulla felicità, pubblicato da Mondadori. La mia copia non ce l'ho per un motivo molto semplice, siccome quel giorno le copie sono andate a Ruba. Meglio così. Sì, c'era un amico che ne era rimasto sprovvisto e allora gli ha detto guarda io l'ho letto perché l'ho presentato, ti presto il mio, quindi non me la sono potuta portare la copia. E di cosa si tratta? Sono le lettere con le quali un immaginario luciglio, l'Uciglio delle lettere all'Uciglio di Seneca, ecco, un immaginario luciglio risponde al maestro Seneca, un libro tutto filosofico che parla di vita, di ritorno, di morte, di amore, di sessualità, di tutto. E' appunto con uno stile anche molto ispirato, molto filosofico e che però è anche una bella scommessa, oltre che saggistica, anche narrativa, perché c'è questa finzione di partenza, questo artificio, cioè proprio il ritrovamento che secondo il racconto sarebbe avvenuto a Pompei, nel crollo della casa del moralista che è stata purtroppo avvenuta nel 2010, e nella finzione narrativa di questo libro che pure è un saggio, Veneziani immagina di aver ritrovato queste lettere di Luciglio a Seneca e di leggerle, insomma, di pubblicarle. Il giorno della presentazione abbiamo scoperto però che in Italia ci sono state un paio di persone, anche, diciamo, tra gli addetti ai lavori, che avevano un po' frainteso questo fatto e ritenevano invece che Veneziani avesse realmente ritrovato le lettere originali, non è una battuta, è successo di Luciglio a Seneca. Un ritrovamento clamoroso. Un ritrovamento clamoroso e così non è, quindi ecco, insomma, perciò voglio sottolineare, è un espediente narrativo che dà una cornice narrativa a un libro, che soprattutto però è un libro, secondo me, sulla paternità in qualche modo, cioè sulla trasmissione, dico paternità in senso lato, non in senso biologico, cioè sul voler trasmettere, lasciare dei punti fermi, delle dissertazioni su dei punti fermi o comunque problematici dell'esistenza, tant'è che il libro è dedicato a una postfazione dove Veneziani parla, in maniera asciutta e non melodrammatica, del padre, il quale lo istradò verso la lettura delle lettere a Luciglio di Seneca e da Giotto. Benissimo, ci ho detto, quindi scusatemi, non ce l'ho prestato. Va bene, non c'è la copia, non possiamo acquisirlo, lo acquisiamo virtualmente agli atti. Lo acquisiamo virtualmente agli atti. E poi, cioè, l'altra volta sono stato, non ricordo che giorno fosse, ma alla inaugurazione della bellissima mostra di Enric Cartier-Bresson, la tentazione del disegno che è stata inaugurata all'Arca, questo nuovo spazio in Largo San Matteo. Non mi era stato possibile andarci durante l'inaugurazione ufficiale, ma l'ho trovato molto bello, una struttura molto importante. C'è questa mostra sensazionale. Secondo me io non mi intendo d'arte, non sono un critico d'arte, ma poter vedere, questo è il catalogo, un catalogo particolarmente curato, e ringrazio Umberto Palestini per avermene fatto omaggio, e oltre a una parte introduttiva di carattere saggistico, come è naturale che sia, ci sono i disegni, che non so se li riusciamo a vedere, di Cartier-Bresson, non ve ne faccio vedere uno, noi siamo abituati a conoscerlo. Il grande fotografo. Il grande fotografo che invece diventa, ma ci sono anche degli iscritti, in particolare ce n'è uno di Yves Bonfoy, che è stato fatto appositamente per questo catalogo, che è insomma un qualcosa di molto importante, e mi ha fatto estremamente piacere vedere che all'interno di questa nuova struttura, cioè l'Arca, in occasione di una mostra così importante, e chi lo vorrà andando può trovarvi questo catalogo, vi fosse un afflusso tanto consistente di pubblico, di partecipanti. e di pubblico. Poi lo dicevamo qui proprio un giorno con Umberto Palestini, il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi, il fatto, secondo me molto positivo, è che non si paga per entrare. No, non assolutamente. L'ingresso è libero, quindi... Assolutamente. ...i ragazzi che magari non hanno disponibilità, però possono andare tranquillamente... Assolutamente, non si paga. ...e vedere questa mostra sui disegni di Enrico Cartier-Bresson. La cosa bella di questa struttura, che speriamo continui a godere come sta succedendo, di vita prospera, perché questi eventi che vi si stanno verificando, secondo me sono di grossa portata, secondo me lo sono oggettivamente di grossa portata, quindi è veramente una gran cosa che vi sia questa nuova struttura. Non è un museo tradizionalmente inteso, ma è un laboratorio per diretta ammissione del direttore Umberto Palestini, sui linguaggi artistici della contemporaneità. E questo credo che sia un balcone, una terrazza sulla contemporaneità, o un molo, se vogliamo fare una metafora più portuale, che consente... Eh, un messaggio, guardate di chi è. Un grande uomo come Pasolini meriterebbe un grande trattato, altro che un libro di modesto contenuto, la sua tragica fine, ancora molti lati oscuri, ce lo ricordo Antonio. Ce lo ricordo Antonio che fa bene, però, perché c'è ragione. E' vero, perché o ci asteniamo dal parlamento, oppure se ne parliamo, facciamolo magari ascoltando Gianni Delia, grande poeta... Esatto, davvero un grande Pasolini. ...che è uno dei massimi esegeti di Pasolini, è di casa a Teramo, perché ha pubblicato anche dei libri qui a Teramo con il mio amico Fabrizio Sclocchini, e versi di Gianni Delia, foto di Fabrizio Sclocchini. Quindi, ecco, Gianni Delia è uno che ha pubblicato dei libri su Pasolini che sono in vendita, si trovano, e riguardano sia l'aspetto letterario, cioè l'eresia di Pasolini, l'uno si intitola, sia l'aspetto biografico tragico, cioè il petrolio delle stragi, dove lui va ad analizzare altre cose. Quindi Antonio fa bene a ricordare questo. Volevo concludere con l'arca dicendo che insomma questo è come fosse un molo che consente alla nostra città di ricevere e di inviare, quindi di entrare in un circuito di scambio come storicamente è sempre avvenuto, con la contemporaneità, cioè di non rimanere rinchiusi nel guscio provinciale e provincialistico che è l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno. Quindi benvenga l'arca, benvengano mostre come questa di Cartier-Bresson. Grazie. Grazie a Simone Gambacorta che ritroveremo un mercoledì prossimo con altre proposte di lettura, con altri interventi anche sulla realtà culturale della nostra città e della nostra provincia. Noi ci vediamo lo stesso mercoledì prossimo con Prima di Tutto. Ringrazio Pier in regia. Non perdete il Prima di Tutto di domani quello condotto da Dorotea Mazzetta. Grazie. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.